Buonasera, è con piacere che da quest'anno siamo parte dell'associazione Albergabici, ossia alberghi che accorgono con piacere tanti ciclisti e le loro esigenze, le loro biciclette. Abbiamo un garage per ospitare le biciclette di notte, una ciclofficina per riparare le biciclette in caso di necessità e abbiamo dedicato anche un servizio a colazione abbondante ed anche per la cena, un servizio abbondante per il focilarsi dopo una giornata in bicicletta. Abbiamo anche un idromassaggio ed essendo ciclisti anche noi abbiamo tanti consigli e cartine per i vari percorsi le ciclabili qui nella zona di San Giovanni di Quattoto vicino a Verona per poter arrivare fino alla ciclabile del sole oppure tramite la ciclabile delle risorgive arrivare su Nuova Regia. Vi aspettiamo allora ed assieme appendiamo oggi il cartello. Anno 2024.